ola buongiorno da michelone un buongiorno a tutti belli e brutti come le va ragazzuoli come le va ragazzuoli come le va ragazzuoli come le va ragazzuoli giornata di pioggia una giornata di merda ma di merda di merda allora cosa c'è in questi giorni qua c'è solo quel caso lì no ovviamente adesso c'è il botta risposta e quello lì adesso i napoletani sono incazzati perché hanno ragione di essere incazzati ma prima di passare a quell'argomento là allora devo mandare di nuovo a fare in culo un altro personaggio no perché si tratta sempre di interini no c'è sempre qualche prescritto del cazzo che viene a commentare stupidate no perché veramente guarda siete di una cattiveria io l'ho sempre detto voi interisti siete cattivi a parte qualcuno amico mio però amico mio difatti io con voi nel web cerco di avere a che fare il meno possibile perché proprio a me di avervi di avervi di avervi nel mio canale proprio a parte qui due tre del resto siete delle merde delle merde perché siete cattivi veramente siete cattivi avete una cattiveria dentro incredibile siccome ieri un poverino poverino uno si è arrabbiato e mi ha risposto poverino no perché siccome adesso vi danno tutti contro con questa storia di acervi vi danno tutti contro allora cercate di arrampicarvi sugli specchi perché voi fate sempre così voi siete e tutta la vita che fate così allora uno mi ha risposto ma allora si può dire che anche la champion league di cartone quella champion league avete vinto è di cartone no quella quella sapete quella di morti no ecco vedi già uno che tocca quell'argomento la è una gran testa di cazzo perché io non so neanche più come insultarti te ma tu che vedrai questo video qua lo sai che parlo di te e ti ho anche risposto tu che parli di quella coppa lì se non so se sei un ignorante un coglione una testa di cazzo non so cosa dirti ma tu lo sai quella finale lì se non sai le cose non parlare perché se io non so le cose di fatto io prima di fare un video mi mi informo non faccio mai video subito raramente mi informo sulle cose tu lo sai che quella coppa lì che quella coppa lì ve l'ho già detto più di una volta in questo in questo canale ma si vede che magari qualcuno è nuovo non lo sa lo ripeto per l'ennesima volta per qualche altro coglionazzo che parla di quella coppa dove sono morte 39 persone di cui uno tifava la stessa squadra tua sai brutto coglione di merda allora quella coppa lì quella finale che poi non c'è neanche tanto da dire la juventus non voleva neanche giocarla non voleva neanche giocarla solo che la uefa gli ha obbligati gli hanno imposto di giocare perché ha detto che doveva essere omologata e bisognava bisognava giocarla per se se no la juventus veniva punita prima cosa poi anche quel giro del campo l'hanno dovuto fare quel giro del campo perché la uefa gli ha imposto di fare questo allora se tu queste cose qui le riesci capire se no ma da un interista prescritto non puoi non puoi pretendere non puoi pretendere che i neuroni funzionino perché io sono sicuro che se ti aprono quella testa di grande cazzo che c'hai dentro sicuramente c'è solo merda c'è solo merda chiuso questo capitolo perché chi tocca quella coppa lì perché quella lì una coppa purtroppo è andata così è una coppa purtroppo sfigata ci sono stati dei morti e voi ancora andate a toccare i morti perché siete delle merde siete delle merde meritate di essere insultati perché siete delle merde ecco passando sempre per quel caso lì no guardate qui sono qui non avrei mai pensato di dare ragione a ziliani non a zuliani a ziliani a parte che se fosse stata la juventus al posto dell'inter lì chissà cosa sarebbe venuto fuori con quelle adesso ci sarebbero stati e possiamo perdere va allora il signor ziliani scrive su area napoli troviamo 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 dove l'ha scritto 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 qua allora ovviamente ziliani sbotta senza prova tv presero dieci giornate la giustizia sportiva non è lineare un caso ancora senza epilogo con tuttavia se francesco acciarvi dovesse essere dichiarato innocente potrebbero generare ulteriori polemiche mediatiche per one jesus e senza dubbio verrebbe criticato pesantemente perché adesso passerà lui dalla parte del colpevole no sia perché voi siccome siete sempre quelli innocenti ovviamente quell'altro deve essere il colpevole no guarda spero che anche quelli di napoli di napoli vi smerdino sempre perché meritate di essere smerdati voi tuttavia dalle sue azioni recenti soprattutto nel post dei suoi sociali incontrare il contadiceva acerbi definendosi incolpevoli e poverino sembra tutto purché un un menzogniere dobbiamo anche considerare che anche se la giustizia sportiva emette il suo verdetto a volte rimane un alone di mistero no questa era l'introduzione paolo zliani giornalista si è così espresso sul suo profilo x con un commento critico sulla procura sulla procura figici in merito al caso acerbi one jesus marconi pisa santini padova lerda provercelli senza prova tv presero dieci giornate la giustizia sportiva forte così deboli la giustizia sportiva forte con con i deboli e deboli con i forti ricordate il chievo spassato via e la regina spedita in c mentre l'eventus veniva regalato il pateggiamento il verdetto sul caso acerbi atteso già domani ci dirà molto sul senso di giustizia del calcio italiano se acerbi è innocente lo si assolva altrimenti lo si sanzioni com'è accaduto ai diseredati di b e c poi ovviamente nel coso ha dovuto sempre mettere la juventus perché lui ovviamente se non se lui non mette almeno non scrive una volta la parola juventus nei suoi articoli lui non sapete no la storia del cornuto perché questo cornuto no questo qui la sua consorte prendeva di monta da montero no ci sono tanti monterini casa allora lui e ce l'ha morte con la juventus per quello no perché uno juventino li montava la la no il cerbiattoli no e continua ancora e continua ma purtroppo questo questo qui è uno sputtanamento caro caro giornalista di mia della mia cippa che te lo porterai avanti tutta la vita perché quando tu andrai nell'altro mondo o ti succederà qualcosa diranno se è nato via il cornuto perché tu ormai per tutti quelli che ti conoscono se il cornuto quello che l'ha preso nel culo da montero ah 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 e noi godiamo perché montero ha fatto il suo dovere grande montero e di quello che dicono di quello che dicono perché di quello che dicono non lo dico io ma hanno detto che c'erano anche altri tipo montero che andavano a no che c'erano più monterini che andavano no però lui continua a rompere i coglioni alla juventus che non so neanche perché la juventus non ha mai denunciato questo qua non so perché la juventus non l'ha mai denunciato comunque su questo qua su sto fatto qua devo dargli ragione no ovviamente ma qui l'ha scritto anche perché gli hanno toccato il suo napoli è perché se fosse successo la juventus al milano la roma non gli avrebbe fregato un cazzo no sicuramente però ha detto delle cose giuste quindi questo continua ancora la la cosa della ma è ma ragazzi è così se fossero stati invertiti i casi pensate se one jesus avesse detto quelle robe la ad acerbi mettiamo che acerbi fosse nero mangiato fosse bianco se acerbi avesse detto quelle cose pensate che fosse finita così pensate che che sarebbe finita così col cazzo ve lo dico col cazzo e per finire rimando ancora fanculo a quello lì perché chi tocca quella coppa lì purtroppo è un è un merito coglione no chi va ancora a toccare quelli perché quelle lì sono disgrazie gente ha sofferto gente ha pianto e c'è ancora gente che va a inneggiare quella coppa lì perché purtroppo sono delle delle merda delle merda cosa puoi dire non posso insultarti di più nel canale perché sennò te ne direi altre di più hai capito tu tu ieri che hai scritto ecco adesso ti ho fatto anche il video hai capito te lo ripeto brutto stronzo ciao ragazzi iscrivetevi canale dai campanellina mi raccomando pollicione se no vi mando questo è attenzione ok ok ok